Sono un appassionato di sport e di calcio, ma qui ci vuole un vero giornalista sportivo, bravissimo, Gianluca Di Marzio! Gianluca, ben arrivato, ben arrivato. Ecco, il microfono. Buonasera a tutti, buonasera. Così come io, di traslata, non saremo, io faccio, saremo il tuo, io faccio la valletta, faccio la stessa faccita, quindi tu, sei tu che sei il giornalista sportivo. La prima domanda te la faccio io, ti chiedo da giornalista sportivo, il pensiero di questa crescita di Zlatan umana che adesso la gente conosce perché sembra che veramente, come si dice, invecchiando come il vino si migliora, lui è sempre stato fortissimo, ma adesso sembra che la gente gli voglia più bene. Sì, è vero, anche a me è colpito tutta la parte relativa all'essere marito, all'essere padre, al nostro rapporto con i figli, di solito queste cose si dicono quando un giocatore smette di giocare, no? Sì, sennò si pensa a com'è in famiglia, in realtà quello che lui sta facendo sul campo e l'hanno testimoniato i tifosi prima con l'accoglienza è ancora straordinario, cioè ieri lui comunque ha segnato il trecentesimo gol. Sottolineiamo come a 40 anni e passa Zlatan sia ancora decisivo in Italia, solo che in questa classifica dietro a Ronaldo e Messi non so quanto gli dia fastidio perché lui vuole essere sempre primo in punto, Ronaldo sono a 482 gol, quindi Zlatan te ne mancano ancora a 183, dovrei giocare ancora a qualche anno. Ma visto come le cose stanno andando non credo che possa smettere perché deve per forza continuare. Quindi credo che la soddisfazione per lui più importante sia ancora quella di essere decisivo sul campo, no Zlatan? Dopo anche i tanti infortuni che hai avuto, il non poter andare all'Europeo, che per te era un raggiungimento ancora più importante della tua carriera, con la tua nazionale, essere tornato dopo quegli infortuni, essere ancora decisivo come hai fatto ieri, credo che sia fondamentale per te adesso. Sì, molto, molto, perché dopo l'infortunio che ho avuto, che mi ha fatto stare fuori calcio di un anno e qualche mesi, ho capito che calcio per me è tutto. Per questo quando parlavamo prima di paura, ho paura di smettere perché non lo so cosa mi aspetta dopo. Secondo me ti fanno fare fuori se ne avrebbero. Però ho paura per la multa perché ero obbligato di presentarvi, se no mi trovo ancora. Ma questo di continuare a giocare penso che è tutto in testa, perché ho 40 anni, sto dimostrando ancora che posso fare la differenza e con mentalità giusta alivio, perché qualità non è che ti sparisci, invece è tutto forza, tutto recupero, voglia che devi avere per portarti e avanti, poi ho una mentalità che è perché essere normale quando puoi essere migliore. E il valore dell'adrenalina, perché anche il titolo credo che sia bellissimo, perché l'adrenalina c'è quando sei in televisione, quando fai un'intervista, quando stai dando una notizia di calciomercato che è uno scutto. E tutto fa parte, quando giochi a pallone, quando fai insomma anche un mestiere, come dire, che non sia per forza quello che facciamo noi. L'adrenalina è la molla che ti porta ad alzare sempre l'asticella. Ma dove la trovi tutta questa adrenalina? Poi credo che sia una domanda di tutti quanti qui ci stiamo facendo. Vorremmo averla noi la tua adrenalina, dove la trovi? Mi arriva con obiettivi che ce l'ho, perché ogni giorno che mi sveglio, come ho detto prima, ho questo dolore, però con l'adrenalina riesco a passare questo momento di dolore, mi porta avanti e avanti. Poi, come hai detto tu, come si è Ronaldo che ha fatto tanti gol, mi ha adrenalina. L'ho vincita da ieri, che mi porta avanti. Poi non ho vinto la partita, allora chi mi conosce sa che non sono felice. se mi brucia qua dentro, però anche questo è un'adrenalina per il prossimo partita e tanti piccoli dettagli che porta avanti. L'adrenalina adesso è lo scudetto per il mira. Lo vogliamo sentire? Sicuro, sicuro. C'è un allenatore particolare che probabilmente, come dire, ha saputo anche non solo gestire, ma quell'adrenalina l'ha incanalata nel modo giusto. Cioè, ci sono allenatori che ti chiedono, come dire, di adeguarti a un proprio sistema di gioco e grandi allenatori che vedono il calciatore, il campione e in base a quelle che sono le tue caratteristiche ottengono il meglio da te. E un allenatore ti ha detto, tu stai davanti e fai gol. Questo allenatore è stato uno dei più grandi allenatori del calcio italiano e internazionale. Lo vogliamo presentare? Fabio, Fabio Ricapelli! Buonasera, ti studiiamo, ti studiiamo, mister. Buonasera. Buonasera, mister. Buonasera. È corretto? Correttissimo. Lui giocava per fare i numeri, sembrava di essere al circo, ma non faceva gol. Adesso si è accorto che bisogna fare gol, perché per vincere le partite bisogna fare gol. E lui non l'aveva ancora capito. Allora gli ha detto, guarda, col tuo fisico, con la tua tecnica, devi giocare avanti. Fare qualche numero, così ti diverti di più, però quando c'è la necessità devi stare a regare le gol. Con la tecnica e la prestanza fisica che hai, puoi mettere in crisi tutti gli avversari. Però direi che, quando è arrivato la Juventus, è stato colpo di fortuna che l'ho incontrato per la prima volta a Berlino, in una partita precampionato, lo vedi giocare al secondo tempo, mi hanno parlato di lui. E andai da Moggi Giraldi e gli dissi, prendetelo. Rimaggono sopra gli studi e lui venne molto volentieri, soprattutto perché c'era un bellissimo rapporto fra Minno Raio e Raio Juventus, e si è dimostrato subito quel giocatore che pensa là. Però aveva i piedi di legno, gli dicevo, tu calci in una sola maniera, c'hai tecnica ma non sai calciare. È incredibile, no? Era un grande talento e soprattutto, come dice lui, l'adrenalina. Dopo ogni allenamento si fermava a calciare. L'abbiamo corretto un po', la posizione, tutto quanto. Grande come era, non sapeva col piede di testa, però anche quello ha misurato. Ancora oggi, però arriva con i piedi, dove arriva la testa. Però veramente lui si è visto e aveva capito che facendo certe cose migliorava e tutti i giorni, tutti i giorni si fermava. Qualche volta scappava e io lo chiamavo Zlatan e lui stava per andare a scuola, e invece ha continuato a lavorare scusate, ha continuato a lavorare ed è diventato un po' di diventato. Aveva grande competitività la Juventus. C'era Del Piero, Seghè, tutti quanti. E questo secondo me per lui, perché aveva visto il livello alto della squadra, ha detto io devo diventare meglio di quello. Credo nella sua testa era questo. Ed era diventato perché quello che ha visto a fare lui dopo, già quando giocava i due anni con la Juventus, però quello che ha fatto dopo, la dimostrazione è che uno deve dedicarsi, deve avere quella voglia per migliorarsi, per avere degli obiettivi, come ha detto un momento fa, per poter raggiungere certi risultati. Quanto è importante, Slata, nel percorso di un campione come te, parli molto per esempio di un oraiola nel libro, che è più di un manager, fa parte della famiglia, tu dici. Quanto è importante...